Sequestro cautelativo dell'auto e dei mezzi per chi abbandona i rifiuti per strada. Il sindaco di Marzala, Massimo Grillo, in accordo con il comandante Menfi della Polizia Municipale e tutta la Giunta, avvia un'azione che consente il fermo cautelativo nei confronti di chi utilizza autovetture e motocicli per abbandonare i rifiuti. Lo stesso non gli sarà restituito fino all'effettivo pagamento e alla sanzione. Abbiamo deciso di adottare un provvedimento molto duro contro chi si ostina a sporcare la nostra città. Da oggi la Polizia Municipale potrà sequestrare l'auto e il motoveicolo utilizzato per l'abbandono dei rifiuti da parte degli incivili, ha dichiarato il sindaco Massimo Grillo. Purtroppo, quanto finora attuato, non basta a far demordere gli incivili e a gettare i rifiuti per strada. Un sequestro in senso stretto non è possibile attuarlo in assenza di un'apposita legge nazionale. Tuttavia, aggiunge il sindaco Grillo, dopo essermi confrontato con il comandante Menfi e con gli uffici, ho deciso di mettere in cantiere una modalità che consenta di essere più incisivi per giungere a un risultato simile. Il primo cittadino, ha poi aggiunto, la città di Marsala sarà il primo comune in Sicilia ad adottare un provvedimento di questo genere e desidero informare alla cittadinanza che è mia intenzione ad operarmi attraverso i partiti con i quali intrattengo un dialogo politico e gli organismi dell'Anci, di cui sono parte, per far giungere in Parlamento un progetto di legge che istituisca e disciplini adeguatamente un vero e proprio sequestro amministrativo del mezzo a carico di chi abbandona i rifiuti, sequestro che nella proposta di cui mi farò promotore potrà divenire confisca nei casi più gravi e comunque in caso di reiterazione della condotta.